Un nuovo centro dedicato alla riabilitazione sarà aperto a Meda da Istituto Oxologico Italiano nelle vicinanze dell'attuale poliambulatorio specialistico. La futura struttura è stata presentata nel corso di una partecipata serata pubblica che si è tenuta nella cittadina dell'Abrianza. Si è ossologico, ampia il proprio legame con i territori e nella sede di Meda dove è già presente con una ampia offerta diagnostica, lo sarà anche con un grosso centro riabilitativo che si propone di essere il punto di riferimento per la riabilitazione non ospedaliera di tutto il Nord Bilano. L'apertura di questo centro è prevista per il mese di dicembre ma Ussologico ha in programma una serie di eventi per introdurre a questa nuova offerta sanitaria. Due eventi di natura clinico-scientifica ma anche un appuntamento per gli sportivi, il ritorno dopo tanti anni della mezza maratona di Meda. Il 30 di ottobre Ussologico promuoverà questa mezza maratona che avrà una finalità benefica, infatti il ricavato verrà destinato per l'acquisto di un mezzo per il trasporto delle persone con disabilità e verrà donato all'Avis locale. Sindaco, una presenza importante quella di Ussologico a Meda? Una presenza importantissima e adesso una ciliegina sulla torta, questo centro riabilitativo che in zona è tra i più grandi e tra i più importanti, quindi per la città di Meda è un orgoglio avere questa collaborazione con Ussologico. Parola d'ordine del nuovo centro è programmi non prestazioni, che cosa vuol dire? Vuol dire che il centro avrà un'ampia gamma di terapie disponibili e anche di strumenti diagnostici, un'enorme scelta tutta di elevata tecnologia, ma questo non basta per curare le persone perché bisogna avere in testa un programma che coordini queste prestazioni e che le finalizzi a una chiara diagnosi di quale sia il problema che ha il paziente. Ci sarà un link importante tra noi e la riabilitazione e io credo anche con la medicina del territorio. In questi anni stiamo sviluppandola particolarmente questo rapporto. Possiamo dire che nel nuovo centro riabilitativo di Meda c'è anche un po' di piancavallo, perché? Perché era importante trasportare un po' l'esperienza che in questi due anni stiamo maturando sulla riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare. Parliamo di un'epidemia che viene dopo la pandemia. In Italia c'è stato un aumento di incidenza di questa patologia, cioè di anoressia e bulimia, di più del 40%. Per cui per noi di Ussologico è stato importante diversificare, è importante esportare sul territorio e anche sul territorio come quello dell'abrianza la cura degli disturbi alimentari. Diventa un'esigenza clinica ma anche un'importanza politica e sociale e anche perché Ussologico ci tiene a dare la possibilità di cura a questi giovani ragazzi che soffrono di questa patologia molto complessa.